ciccine ciccini buongiorno volevo appunto approfittare del mio outfit tutto in pink con la palette utilizzata della pink lux per parlarvi di ciò che sta andando di moda in primavera primavera estate la primavera estate prevede l'uso appunto di rosa in tutte le sue sfumature il rosa secondo me è un colore passepartout che è tornato di moda io ne sono assolutamente assolutamente felice perché aspettavo appunto il ritorno di questo colore da tanto tempo io vi dico una cosa riguarda il mio matrimonio io ho utilizzato un vestito rosa cipria bianco rosa cipria champagne non ho voluto utilizzare appunto il bianco puro per inciso proprio perché io stavo convivendo quindi comunque il bianco della purezza tipico delle cerimonie in chiesa mi sembrava anche un'ipocrisia quindi ho voluto adottare un colore che mi piaceva tantissimo che mi donava mi illuminava appunto perché io sto bene con colori caldi e quindi ho utilizzato un vestito diciamo bianco pesca champagne è il trucco per l'appunto abbinato quindi il rosa mi trova assolutamente d'accordo ancora di più con l'abbronzatura ma un colore che sta veramente a tutti il color rosa rosso colarlo sono dei colori appunto passepartout che stanno bene le bionde abbronzate e soprattutto soprattutto donano tantissimo il rosso corallo donano tantissimo in tutte le stagioni alle more con un determinato incarnato che sicuramente viene illuminato da questa tonalità molto accesa aragossa diciamo moda flop di quest'anno secondo me perché piace a tante ma sinceramente non non mi convince non la trovo assolutamente un qualcosa di di molto appunto fashion ma piuttosto lo trovo assolutamente gipsy come come tipo di stile ovvero un pochino come dire esagerato più sul tamarro la nuova moda delle delle scarpe simi converse superstar scamosciate della puma con il fiocchettino assolutamente ci sono in varie tonalità pastello e i pastello tornano di moda in primavera però queste tonalità del pastello non nascondono il fatto che appunto con questi nastri le scarpe siano assolutamente esagerate possono piacere possono essere pucciose eccetera ma sicuramente magari se le puoi vedere a sicuramente adatte a un tipo di moda molto più giovane che va dai 12 ai 16 anni ma sicuramente non non le vedo adeguate per una moda adulta massimo quello che promuovo sono di un colore pastello le adidas superstar o le stan smith che sicuramente col fatto che vengono stemperate col bianco e hanno appunto dei dei lacci molto più diciamo molto più semplici le trovo assolutamente portabili anche per un look casual questo è secondo me quello che va di moda è quello che secondo me è stato un flop di questa primavera estate ditemi la vostra vi aspetto nel mio canale un bacio da manuela